L'abbiamo già avuto, credo che si senta, io ho una voce contoria, e ringrazio tutta la presenza, siamo qui per parlare di monnezza, e quindi è un argomento esaltante, è un periodo anche molto positivo, in cui se ieri potevamo dire grasso è bello, e già era una grande soddisfazione poterlo dire, perché per una volta le istituzioni ci davano una soddisfazione con gli eventi del Senato, credo ricorderete, oggi ci spingiamo ancora più avanti e con l'aiuto dell'autore Antonio Castagna discuteremo di quanta è bella, importante e interessante la monnezza, anzi io credo che essendo l'autore un appassionato di rifiuti, lui così si definisce, e devo dire che io lo comprendo perché anche io sono un cultore della bellezza dei rifiuti, con lui forse ci spenderemo ancora più avanti nel dire che tutto è monnezza, che la monnezza è la vita e che forse siamo anche noi, io nella parte del sacco viola non mi trovo perfettamente, ma insomma potrei adattarmi. Come dicevo l'autore del libro che trovate qui, ben visibile, che non mancherete di acquistare, è una personalità molto particolare, un po' appunto come il sacco viola, all'interno del nostro autore si nascondono varie attitudini, ne abbiamo una un po' pericolosa che è quella del formatore menageriale, due parole un po' sinistre in verità, intrambe, quella di divulgatore di temi scientifici, quello del volontario culturale in un'associazione Manamanà che si occupa di alcuni dei temi che poi trazzeremo nella discussione del libro, ma anche quella del consulente, un'altra parola un po' triste che fa parte dell'esperienza che lui sta svolgendo credo ancora di consulente per luoghi più fortunati dei nostri dal punto di vista ambientale e il Trentino dove evidentemente si è richiesta la sua presenza per razionalizzare, un'altra brutta parola, e soprattutto diminuire l'entità di quanto viene rifiutato e quindi va poi in qualche modo trattato. Come vedete è a fianco a me anche Bruno Magatti che conoscerete tutti, è assessore all'ambiente e alle politiche sociali del Comune di Pomo e vedremo poi che queste due parti del tema, ambiente e politiche sociali, nel libro sono giustamente unite, perché è molto difficile, ce lo spiegherà l'autore, parlare del tema dei rifiuti se si esclude una trattazione solo come dire manualistica tecnocratica senza mettere insieme le persone e i rifiuti che esse producono, senza mettere insieme la società e l'accumulo di materiali di scarto e vita più o meno breve che esse producono. Non la farò lunga, tranquillizzatevi e quindi darei subito la parola al nostro Antonio Castagna, tenendogli da cosa derivi la sua insana passione per la buonezza.